Buongiorno, io sono Chef Enrique. Oggi cucinero un'ova strappasate. È uno dei miei piatti preferiti. Questo piatto si prepara in tutti gli mondi, però è di origine francese. Le uova strappasate si mangiano per colazione a casa mia. Io bevo latte o caffè, generalmente. Gli ingredienti principali sono le uova, la sale, il peppe, anche l'olio per cucinare. Grazie a tutti. Finito. Arrivederci.